Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo appuntamento della nostra rubrica Get Ready With Me a Tu per Tu Ormai ragazzi manca pochissimo, siamo entrati nella 38esima settimana e davvero siamo ormai agli sgoccioli della serie che da qui a un paio di giorni avremo poi il nostro piccolo Edo se tutto va come previsto ed è proprio di questo che vi voglio parlare oggi visto che siamo ormai alla fine e come sapete la prossima settimana il 5 comunque vengo ricoverata in ospedale voglio parlarvi di come ho vissuto io quest'ultimo mese di gravidanza quindi oggi vi voglio raccontare la mia esperienza nel nono mese di gravidanza che cos'è cambiato, se sono cambiate delle cose, come l'ho vissuto insomma tutta una serie di cose che adesso andiamo a vedere insieme nonostante tutto vi devo dire che anche il nono mese di gravidanza è stato per lo più una passeggiata nel senso che comunque l'ho vissuta bene, la sto vivendo bene anche in questi ultimi giorni però comunque nelle ultime due o tre settimane ci sono stati dei cambiamenti non indifferenti proprio in vista del parto indubbiamente il primo enorme cambiamento è il peso della pancia perché comunque a partire dalla trentaseiesima settimana un po' più avanti insomma ho iniziato veramente a sentirmi molto molto pesante soprattutto nel basso ventre il che è normale anche perché Edo e essendo ormai pronto ad uscire ha praticamente messo tutto il suo dolce peso proprio nella parte bassa di conseguenza soprattutto se sto tanto in piedi se cammino insomma il suo peso di certo si fa sentire non passa inosservato questo suo peso però non è non si fa sentire solamente durante la vita di tutti i giorni quindi durante la giornata nelle cose più banali come per esempio anche solo nel piegarmi perché ultimamente sto trovando veramente un sacco di difficoltà a fare dei movimenti se mi cade qualcosa a piegarmi anche solo mentre pulisco casa per dire il che anche lì ci sto mettendo più di prima perché indubbiamente tra l'ora che si muove, tra il pesantore eccetera insomma non è proprio la comodità fatta in persona però il suo peso ha avuto anche una notevole influenza sulla notte su come dormo di notte perché esempio stupido oltre a trovare sempre più difficoltà nelle posizioni comode perché ovviamente ogni 2x3 sono lì che mi giro, mi faccio, mi sposto e quant'altro è subentrato anche un altro fattore poco 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 piacevole che riguarda il russare letteralmente ragazzi io da 2-3 settimane ho iniziato a russare tantissimo in qualsiasi posizione tant'è che mi è stato detto che è più che normale perché ovviamente il peso del bambino è quello che è però questo ha comportato anche il far andare a dormire Gabbo spesso e volentieri sul divano perché letteralmente non riuscivo a dormire e io di conseguenza dormendo neanche mi accorgo che sto russando però questo diciamo è stato un problema ma è un problema perché tuttora non riesco a farne a meno nel senso non me ne accorgo sono anche andata in farmacia a chiedere magari i cucerottini che si mettono qui ma mi è stato detto che essendo appunto in gravidanza sono pressoché inutili e che tornerò a dormire tranquilla senza russare come prima solamente poi dopo il parto effettivamente inutile anche dirvi che ovviamente tutti questi cambiamenti sono collegati tra di loro perché di fatti anche solo la fatica nel fare lunghe passeggiate fa parte appunto è collegata più che altro al fattore peso del bambino perché prima potevo anche camminare tutto il giorno senza avere enormi difficoltà adesso però mi rendo conto che fare lunghe passeggiate e lunghe camminate per quanto a me piaccia sono molto più stancanti molto più difficili da fare anche perché devo andare in bagno di per tre innanzitutto ma poi la mia camminata che comunque non è che sia mai stato un velociraptor insomma però comunque anche la mia camminata è diventata molto molto più lenta e appunto fatico a volte mi devo fermare magari fare qualche pausa ogni quarto d'ora perché veramente il peso è diventato tale da non consentirmi più la stessa agilità di prima difficoltà a respirare? assolutamente no nel senso che non ho mai avuto questo problema neanche appunto nell'ultimo mese però comunque queste difficoltà ci sono altro cambiamento dalla trentasesima settimana è stato il fattore fame perché comunque non so come ma nelle ultime due settimane la mia fame è aumentata faccio sempre i miei soliti tre passi al giorno però comunque arrivo all'ora di pranzo, di cena veramente con un appetito incredibile che non ho mai avuto prima e comunque credo che da una parte per una persona come me che saltava i pasti non sia poi una cosa negativa ma al tempo stesso è veramente strano perché da che io sono abituata a non sentire la fame ad avere fame diciamo che fa abbastanza strano devo dire la verità però comunque nulla di che dalla trentasettesima settimana invece sono iniziate le contrazioni preparatorie che onestamente vi devo dire quando le ostetiche, le ginecologhe mi dicevano ah ma te ne accorgerai? e tipo sì ho capito ma non le ho mai provate quindi non saprei neanche come siano cosa dovrei sentire e effettivamente tuttora ci ho messo un po' a capire che fossero contrazioni preparatorie perché sono dei dolori che sono simili simili ai dolori mestruali per intenderci almeno così io le sento e così me l'hanno spiegato poi in realtà mi hanno detto che è molto soggettivo perché varia da persona a persona e anche al corso preparto avevano appunto spiegato che ci sono persone che magari non le hanno proprio le contrazioni preparatorie altre che invece ce l'hanno ma sono a picchi l'hanno spiegato proprio con un grafico ad onde diciamo così e poi ci sono altre persone tipo nel mio caso che hanno queste contrazioni preparatorie dove appunto hanno questi dolori nel basso ventre che sono simili ai dolori mestruali e che possono durare un po' io ho contrazioni fortissime ne ho solamente avuta una l'altra settimana però per il resto appunto sono queste contrazioni che come durata variano ne ho magari uno o due al giorno e possono variare da una durata di 30 minuti fino a una durata di un'oretta per esempio stanotte sono durate parecchio tant'è che non è che sono riuscita a chiudere tantissimo occhio però vi devo dire per il momento non sono poi così dolorose fastidiose sì sicuramente però non sono sono abbastanza sopportabili o comunque perché probabilmente sono talmente abituata ad avere i dolori dell'artrite che boh sono un dolore unico e quindi non ci faccio neanche poi così tanto caso mi stavo quasi dimenticando di dirvi che dalla 36esima settimana abbiamo iniziato anche a fare i massaggi del perineo quindi sono questi massaggi letteralmente all'apertura della vagina con l'olio di mandorla questo per elasticizzare indubbiamente la pelle ma anche per evitare lacerazioni durante il parto oltre appunto che a facilitare anche la dilatazione stessa sono da fare tutte le sere e appunto con l'olio di mandorla 100% quindi senza profumi senza nient'altro aiuta proprio ma questo lo sapete o comunque sia è una cosa che si sa che appunto l'olio di mandorla aiuta proprio a elasticizzare la pelle dicono che sarebbe ideale farlo da sole ma onestamente vi dico la verità io da sola non ci riesco perché comunque il pancione è quello che è il seno è quello che è e di conseguenza andando dovendo andare ad utilizzare il pollice qui abbiamo l'apertura quindi andando a tirare proprio in questo modo la pelle dall'interno verso l'esterno il muscolo più che altro dall'interno verso l'esterno con il pollice in questo modo quindi con l'unghia rivolta verso l'alto diventa difficile di conseguenza mi sono fatta aiutare la Gabriele ma va bene lo stesso diciamo che è una sottoforma di stretching da fare appunto per agevolare poi il parto e la dilatazione stessa per il resto quando arriva la sera siccome comunque durante il giorno sono sempre in perenne movimento non mi fermo mai un attimo cerco anche di sedermi tra virgolette il meno possibile per mantenermi attiva arrivata sera comunque io sono letteralmente morta distrutta tant'è che poi quando con Gabriele dopo cena dopo aver finito di pulire la cucina e rassettare il tutto ci mettiamo sul divano io rimango lì ferma edo che si muove poi insomma tutta la nostra routine anche con Gabriele la sapete però ecco appunto poi quando mi devo tirare su dal divano che dobbiamo andare poi nel letto allora lì ho bisogno che Gabriele mi dia una mano a tirarmi su perché veramente arrivo la sera che sono sfinita sfinita però anche lì diciamo che non mi posso affatto lamentare di come ho passato e sto finendo insomma sto concludendo il nono mese di gravidanza mi ritengo molto molto fortunata c'è anche un altro cambiamento che ho constatato questa mattina allora come sapete io durante tutta la gravidanza non ho preso peso anzi sono arrivata al punto ero arrivata al punto intorno al sesto mese che insomma avevo perso all'incirca una decina di chili e quindi mi ritenevo fortunata anche in quel senso proprio perché appunto non avevo preso peso ma è questo fino a il mese scorso o meglio fino a tre settimane fa perché nelle ultime tre settimane e qui posso dirlo finalmente lo so che sono sano ma finalmente ho preso un po' di peso ma cosa intendo per un po' di peso nel senso che stamattina mi sono pesata e ho preso in totale cinque chili che in realtà ci sta perché Edo pesa quattro chili praticamente tre chili e otto tre chili e nove su per giù poi c'è il peso della placenta del liquido ammiotico quindi devo dire che in realtà come peso sono anche abbastanza giusta non sono andata a prendere troppi chili però insomma sì alla fine anche io ho preso del peso ma appunto ripeto sono cinque chili poi vabbè cosa ve lo dico a fare la mia pancia nelle ultime tre settimane è letteralmente esplosa ancora di più è diventata ormai super gigante ma anche questo fa parte del gioco non so se rendo l'idea di quanto Edo si effettivamente esplosa è veramente gigante gigante la pancia è iniziata a scendere è iniziata ad essere un po' più a punta spero che effettivamente renda l'idea nel video di quanto possa essere grande però è non lo so sono scoppiata letteralmente come un palloncino non vi nego comunque che per fare tutti questi contenuti della gravidanza man mano che c'erano dei cambiamenti letteralmente mi andavo a segnare sul block notice punto per punto le cose da dirvi le cose che stavo passando come le stavo vivendo cosa stavo attraversando perché se no mi sarei totalmente persa quello che però vi volevo ancora dire prima di salutarvi è che come vi avevo accennato nello scorso get ready with me se non vado se non mi errato ho fatto anche l'incontro con l'anestesista che in realtà non era proprio l'incontro con l'anestesista nel senso che di anestesia non abbiamo parlato perché appunto come vi ho già detto il cesario è escluso però mi hanno spiegato in che cosa consiste eventualmente l'epidurale come funziona e mi hanno fatto firmare una liberatoria dicendomi anche che io firmando quel foglio non davo il consenso di farmi l'epidurale ma quella firma serve solamente in quel momento quindi nel momento del parto qualora io avessi talmente tanto male appunto da voler fare l'epidurale perché ovviamente lì per lì sul momento si chiedono l'epidurale non è che possono portarmi il foglio con la penna e io firmo mentre sono nel pieno del travaglio e quindi me l'hanno fatto firmare però poi appunto la decisione spetterà a me lì sul momento se voglio la faranno se non voglio non la faranno però insomma vedremo poi un attimino sul momento tra l'altro mi hanno anche spiegato che almeno loro l'hanno messa sulle percentuali dicendomi che comunque nel 53% dei casi che in realtà è tantissimo ci possono essere delle complicanze con l'epidurale tra cui il fatto di avere una forte cefalea dopo il parto e di conseguenza se così fosse questo effetto collaterale dovesse presentarsi devo rimanere in ospedale sotto sorveglianza per altri giorni oltre a quelli di degenza appunto per il parto comunque mi hanno spiegato quello e bom comunque è andata abbastanza bene eccetera altra cosa stanotte per la prima volta in assoluto ho iniziato anche a perdere il tappo mucoso e sta andando avanti pure per tutta la mattina è una perdita abbastanza sostanziosa e questo ma per chi è mamma già lo sa vuol dire che effettivamente manca veramente poco pochissimo ora io non lo sapevo quindi magari se può essere d'aiuto a qualcuno benvenga quindi ve lo dico lo stesso nel momento in cui si va a perdere questo tappo mucoso che è praticamente una sottospecie di gelatina di muco proprio gelatinoso io ad esempio tra stanotte e stamattina ne sto perdendo a quantità industriali ma è del tutto normale proprio perché siamo vicini al parto però che cosa vuol dire vuol dire che dalla perdita del tappo possono passare ore prima del cavaglio giorni fino a due settimane quindi comunque noi sappiamo che al momento della perdita di questo tappo mucoso entro le prossime due settimane insomma saremo lì a partorire di conseguenza questo ragazzi è l'ultimo get ready with me inerente alla gravidanza perché poi ovviamente quando tornerò a casa perché poi da qui in avanti penso che passeranno due settimane prima di un altro get ready with me inizieremo poi magari a parlare di come ho passato il parto piuttosto che l'allattamento ah ecco a proposito dell'allattamento altra cosa inizio a perdere un sacco di liquido dal seno e niente quindi poi nei prossimi get ready with me inizierò a parlarvi in qualità di mamma vera e propria quindi con questo video concludiamo tutto il mio percorso durante la gravidanza e come sempre vi aspetto nei commenti ditemi le vostre esperienze datemi qualche consiglio anche perché in questo momento sono un tutt'uno di emozioni mi sento agitata felice contenta ansiosa panico per i dolori del parto sono curiosa di vedere mio figlio non vedo l'ora di vederlo mi chiedo come sarà cerco di immaginarlo anche Gabriele al settimo cielo quindi sono veramente tutta una serie di emozioni insieme e visto che ormai mancano pochissimi giorni insomma fatemi appunto sapere la vostra opinione la vostra esperienza insomma le vostre avventure in gravidanza detto questo ragazzi il video di oggi è durato anche fin troppo noi a questo punto ci vediamo nel prossimo video vi lancio un bacione grandissimo ciao a tutti ciao a tutti